Giro palla ancora un po' difettoso, il retropassaggio impreciso, il tocco che entra dentro incredibilmente, arriva subito il gol del vantaggio, ha segnato il numero 19 Conte Allargato a Yepen, può andare a salire, salta un avversario, si accintra lo scavetto sotto per Conte che alza un pallone meraviglioso che colpisce la traversa Occasionissima, prenderla tra le linee, riesce a tenerla lì, Conte viene toccato, l'arbitro lascia proseguire, ancora Conte, via che numero, il destro, la respinta con i piedi, ancora grandissimo intervento di Armaroli Match con il Social Club sotto di tre gole, deve recuperare, è un parziale molto pesante, va via molto bene Muzzi a recuperare la sfera e l'attraversione al centro Arriva subito, immediatamente Conte a sollecitare, dopo 30 secondi Armaroli, ad incidere il lancio di capo Muzzi ha cercato e trovato Conte che è andato via molto bene con il sinistro e con il destro, apre il piattone, la mette nell'angolo dove non può arrivare Armaroli E' il 5 a 0 che è una sentenza Buono il tocco verso Conte che va via in dribbling, il destro potentissimo sotto l'incrocio dei pali, arriva il 7 a 0 Ultima manciata di secondi, c'è ancora spazio, Conte riceve il pallone all'interno dell'area di rigore, lo controlla molto bene con il destro, fa anche l'8 a 0